In questo video vorrei farti vedere come puoi colorare una nuvola di punti da laser scanner o una nuvola di punti da elaborazione Structure from Motion ma dove l'informazione del colore in qualche modo non c'è attraverso il software Structure from Motion Agisoft Metashape nella versione Professional. La maggior parte degli scanner che si utilizzano adesso hanno una camera integrata o comunque hanno la possibilità di essere collegati con una camera fotografica e quindi c'è la possibilità di scattare immagini durante la scansione che permettono poi in post elaborazione di colorare la nuvola di punti con un grandissimo vantaggio è quello della, tra virgolette perché non è proprio così, coassialità ossia la camera che scatta immagini durante la scansione o anche prima o dopo la scansione insomma dipende dallo scanner, ha lo stesso punto di vista dell'emmettitore dei raggi e quindi le fotografie sono molto solide per quanto riguarda la colorazione dei punti della nuvola di punti. In questo video vorrei farti vedere una sorta di alternativa non è detto che sia la strada più veloce il mio consiglio è quello che se c'è la possibilità di ricevere una nuvola di punti colorata da chi ha effettuato il rilievo laser scanner è sempre la cosa migliore però c'è questa opzione utilizzando una sorta di strada alternativa Agisoft Metashape, Software Structure from Motion hai la possibilità di colorare una nuvola di punti bisogna fare una serie di step quindi importare la nuvola di punti da laser scanning colorare la nuvola di punti da laser scanning con l'informazione delle immagini e poi vediamo un attimo il risultato ti anticipo già che il risultato non sarà almeno in questo caso, nel caso che ti faccio vedere non sarà il miglior risultato possibile però è una via e mi fa piacere condividere con te questa possibilità operativa nell'ambito delle nuvole di punti quindi passiamo dentro a Metashape in realtà questa non è Metashape, è Cloud Compare ho caricato la nuvola di punti da laser scanning dentro Cloud Compare questa nuvola di punti l'ho acquisita io con il mio scanner che ha una camera integrata la nuvola di punti in realtà ha la possibilità di essere colorata in post elaborazione con il software riutilizzo strumentazione Trimble non è questo il punto ho scelto per questo video, per gli scopi di questo video di non applicare il colore ai punti di questa nuvola quindi questa nuvola di punti è formata da punti nello spazio tridimensionale che non hanno informazione del colore si tratta di un piccolo versante in realtà è un pezzetto di una strada di un tratto di strada più lungo che sta proprio a monte di una strada e il punto di scansione è lungo la strada quindi guardando il versante dal basso verso l'alto questo sarà importante ricordarcelo perché poi lo vediamo dopo alla fine del video facendo un po' di considerazioni su come sarà colorata la nuvola di punti dentro Metashape questa nuvola di punti io la posso importare dentro Metashape dove esiste un progetto fotogrammetrico perché il rilievo che ho fatto in campo ha previsto l'acquisizione laser scanner e l'acquisizione di immagini da drone per un progetto extract from motion e questo qui sono già un passo avanti scusa e questo è l'ambiente l'area di lavoro dentro Metashape dove vedi in questa finestra vedi le immagini del dataset che ho acquisito in realtà il dataset è molto più esteso ho preso una porzione e vedi la nuvola di punti sparsa questi sono i punti che seguono la fase di allineamento delle immagini e queste sono le immagini che sono state scattate i punti ovviamente sono colorati perché utilizzando le immagini e le informazioni del colore vengono quasi immediatamente anche se in realtà un minimo di processo serve per colorare questi punti dei pixel delle immagini questa è la nuvola sparsa già ho referenziata in un sistema di riferimento che è un sistema UTM il sistema di lavoro non è importante sapere quale però la cosa importante è che le due nuvole di punti o meglio il progetto dentro Metashape e la nuvola di punti laser scanner devono in qualche modo essere legate sotto un aspetto del sistema di riferimento altrimenti quando importiamo la nuvola di punti laser scanner non va al posto giusto e quindi quando viene colorata non viene colorata neanche nel modo corretto o meglio proprio non viene colorata sicuramente se lo shifting e se le differenze di coordinate sono grandi probabilmente uscirà adesso non so quando guarderei questo video non so se sarà già uscita se è in fase di definizione l'ultima release di Metashape la 1.7 si parla di possibilità di registrare nuvole di punti da laser scanner quindi qualche tool legato alle nuvole da laser scanner ci sarà non è questo il caso perché questa è ancora la versione 1.6 allora la prima cosa che bisogna fare però per colorare questa nuvola di punti è importarla io qui ho creato una serie di chunk dove ho fatto diverse elaborazioni per evitare di perdere tempo durante questo video allora la prima cosa da fare è l'importazione sono in questa fase quindi che cosa ho fatto? ho creato il mio progetto ho importato le immagini in questo caso 157 camere ho allineato ho lanciato l'allineamento delle immagini e quindi ho creato la nuvole di punti sparse l'ho ottimizzata sulla base di una serie di marker qua ce ne sono soltanto 5 in realtà la strada è più lunga per cui questo è un ritaglio a posteriori diciamo così quindi ho dato consistenza al progetto da un punto di vista topografico le camere si sono allineate ho fatto il bundle adjustment ho questa nuvola di punti sparsa importo la nuvola di punti da laser scanner come faccio a importarlo? file import import points seleziono la nuvola di punti in formato in questo caso LAS potrebbe essere anche un altro formato il TXT quando lui apre o meglio quando gli do il comando di importare la nuvola di punti lui mi apre questa finestra e mi dice dammi il sistema di riferimento il sistema di coordinate il sistema di riferimento in cui sono espresse le coordinate dei punti della nuvola di punti che sto importando questo è importante è importante conoscerlo è necessario saperlo perché se non do l'informazione corretta non ho il matching tra le nuvole di punti in termini di posizione spaziale quindi non si sta parlando di registrazione quindi questa operazione non ha niente a che vedere con la registrazione tra nuvole di punti è soltanto per farti vedere come si può colorare una nuvola di punti che manca dell'informazione del colore tipicamente dal laser scanner con le immagini in un processo Stracted From Motion il mio sistema di riferimento è questo EPSG25832 LTRS89 UTM32N non voglio applicare nessuno shifting gli do ok e lui importa la nuvola di punti all'interno dell'area di lavoro di Metashape se avessi avuto qui dentro un'altra nuvola di punti avessi già generato una nuvola di punti nel processo fotogrammetrico lui mi avrebbe chiesto in questa fase guarda che c'è già una nuvola di punti non me l'avrebbe detto proprio così che cosa vuoi fare di questa nuvola di punti vuoi importare vuoi sostituirla vuoi sostituire la nuvola di punti che esiste già con quella che sto portando dentro oppure vuoi che io ti crei un secondo oggetto nuvola di punti densa da tenerti insieme a quella che esiste già si tratta di scegliere che cosa vuoi fare e poi dare l'opzione a Metashape in modo che faccio una o l'altra cosa una volta che l'hai importata eccola qua questa è la nuvola di punti l'elemento che ho importato lui lo vede automaticamente come nuvola di punti densa quindi non mi ha dato nessuna possibilità di sostituire la nuvola di punti sparsa perché si sta parlando di due cose diverse la nuvola di punti sparsa è il processo del processo structure from motion bundle adjustment è una cosa che è molto gelosa nel suo essere legata alla fotogrammetria import points ti importa una nuvola di punti che lui individua come densa non è importante che ci sia un punto 10 punti 1 milione di punti 100 milioni di punti è una nuvola di punti densa per vederla devi passare alla vista della nuvola di punti densa quindi qui sono una sola nuvola sparsa posso aprire un attimo di più le immagini l'area di lavoro vado sulla nuvola di punti densa è ovviamente senza colore i punti non colorati dentro metashape sono in questo caso neri ora non so bene se il fatto che siano neri e qui ti chiedo scusa perché non ho approfondito è legato al fatto che ho tolto la colorazione quindi ho attribuito un colore nero a tutti i punti oppure se metashape li prende e te li fa vedere neri i punti che non hanno informazione di colore ti chiedo scusa comunque sia potrebbe essere che i punti abbiano la classica colorazione salmone degli elementi non colorati dentro metashape però comunque la cosa importante è che non hanno informazione di colore e ora le voglio colorare con cosa le coloro con queste immagini con le immagini che compongono il progetto fotogrammetrico e che mi danno la possibilità perché anche se non sono state scattate dal solito punto di vista e questo sarà creerà poi comunque dei problemi nell'output comunque individuano rappresentano raffigurano la solita zona che è stata scansionata dallo scanner quindi posso utilizzarle con dei limiti ma posso utilizzarle come faccio è semplicissimo tools dance cloud colorize dance cloud non devi fare nessuna scelta perché perché in questo momento l'unica l'unica sorgente source data l'unico dato sorgente che puoi utilizzare per colorare questa nuvola di punti sono le immagini quindi se vuoi colorare la nuvola di punti vai avanti così dai ok perché puoi usare soltanto le immagini in stati avanzati dell'elaborazione si possono scegliere anche altri prodotti per colorare la nuvola di punti ma in questa fase non ne abbiamo tipo la mesh colorata la mesh con la texture e quindi il software mi dà soltanto l'opzione di utilizzare le immagini non gli do ok perché il processo l'ho già fatto e questo processo è abbastanza lungo decine di minuti si parla forse anche qualcosa di più dipende da quante sono le immagini comunque non è un processo velocissimo le ho create all'interno di tre nuovi chunk dove ho utilizzato in maniera settoriale le immagini che costituiscono un dataset fotogrammetrico per colorare la nuvola di punti allora il primo chunk che ho chiamato scan colorful ha utilizzato tutte le immagini per colorare la nuvola di punti ora tolgo le immagini quindi sono immagini nadirali e immagini oblique e qua vedi la nuvola di punti la nuvola di punti densa colorata è evidente come ci sia qualcosa che non va cioè non è che è proprio fatta benissimo questa colorazione della nuvola di punti ci sono un po' di in termini tecnici si potrebbe dire di pacciughi ma non di pacciughi perché non sono non sono andate bene alcune cose ma perché ci sono oggettivamente dei limiti vedi che ci sono una sorta di ci sono delle zone nere dei buchi delle punti nature sono delle parti della nuvola di punti densa da laser scanner che non sono state colorate quindi sono rimaste nere da che cosa sono dovute queste ebbè fondamentalmente dalla differenza che c'è tra l'angolo di diciamo il punto di vista dell'emettitore laser in questo caso e la posizione e l'orientamento delle camere che ho utilizzato per colorare la nuvola di punti laser scanner è abbastanza evidente se vado avanti con gli altri due dataset quello che è successo allora il primo dataset che ho utilizzato o meglio il secondo dataset che ho utilizzato in maniera settoriale è quello delle camere oblique che cosa ho fatto? ho disabilitato le camere nadirali passiamo a camere oblique quindi ho disabilitato le camere nadirali e come ho fatto? beh ci vado sopra tasto destro disable camera e mi mette questa sorta di icona rossa di divieto per dirmi che quell'immagine è disabilitata un'immagine disabilitata non viene utilizzata dal software nel calcolo nei calcoli successivi in tutti i processi successivi qui ho disabilitato tutte le immagini nadirali ora le immagini sono in un'altra cartella per cui se ci faccio un doppio clic lui mi dice guarda che stanno da un'altra parte però queste sono fotografie nadirali e questo è la nuvola di punti da laser scanner colorata con solo le camere oblique si vedono guarda le camere nadirali sono colorate di questo celestino più chiaro mentre le camere oblique che sono rimaste che sono state utilizzate sono colorate con questo celeste più scuro quasi blu se passo all'altro dataset o meglio all'altro chunk dove ho utilizzato soltanto le camere nadirali vedrai che la nuvola di punti colorata è ancora più tra virgolette problematica vedi che c'è ancora molto 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 più molto c'è più nero ci sono più buchi neri rispetto ai casi precedenti e qui ho utilizzato eccole qua soltanto le camere nadirali quindi le camere blu hanno utilizzato sono state impiegate da software per colorare la nuvola di punti mentre queste oblique le celesti non sono state utilizzate ma anche se io ritorno indietro e vado qua dove ho utilizzato tutto il dataset in termini di immagini ci sono dei problemi di colorazione e si spiegano proprio in questo nel fatto che il punto di vista di queste camere è molto molto diverso dal punto di vista dello scanner che più o meno adesso proviamo a andarci senza farti venire troppo il senso di ubriacatura più o meno dal punto di vista dello scanner poteva essere questo quindi dal basso verso l'alto che cosa è successo? è successo che lo scanner dal suo punto di vista è riuscito a prendere punti di questo ambiente che non sono presenti nelle immagini che sto utilizzando per colorare il dataset per colorare lo scanner la nuvola di punti la scansione e quindi non essendoci questa corrispondenza tra posizione del punto e posizione nella foto e non essendo la nuvola di punti densa derivante da un allineamento e da un bundle adjustment con relative riproiezioni e proiezioni e riproiezioni sulle immagini mancano software delle informazioni per colorare questi punti e quindi questi punti non sono colorati è molto evidente quello che succede quello che è successo in questa zona vedi questa zona è una parte che la nuvola di punti da scanner ha preso perché dal basso verso l'alto è riuscito a prendere dei punti ma non ci sono fotografie che coprono questa zona vedi che le foto nadirali si fermano più o meno qui e le foto oblique se vado a provare a tirare una sorta di di linea che definisce la parte superiore dell'angolo di campo beh vi diciamo che possono andare poco più sopra però non la coprono bene come questa zona e quindi questi punti non hanno possibilità di essere colorati perché non ci sono camere che li vedono e quindi non ci sono pixel che li possono dare il loro contributo questo è un limite è un limite enorme del fatto che stiamo colorando una scansione laser con delle immagini che sono state scattate in altro modo con altro non tanto con un altro sensore con un'altra camera ma proprio con un altro scopo e va saputo è comunque un dato colorato è comunque un qualcosa che abbiamo rispetto a una nuvola di punti nera però è un limite è un limite di fatto che va tenuto in considerazione quando fai questo processo c'è la possibilità di lavorare un pochino su questo dato per quantomeno togliere questi punti i punti neri in realtà non si possono togliere meglio con metashape non è facilissimo togliere tutti quanti vediamo come fare quantomeno per togliere il grosso o quantomeno per togliere la parte superiore beh applico un filtro filtro i punti della nuvola sulla base del colore e quindi in questo caso utilizzerò il colore nero per selezionare i punti che hanno il colore nero o meglio che non hanno colore per eliminarli dove vado qua tools dense cloud filter ok mi sono perso select point by color e quindi io che cosa devo dire devo dire al software di selezionare i punti che hanno il colore nero quindi posso andare qui selezionare il colore nero oppure fare un pick screen color e lui comunque mi riporta al nero detto questo posso o meno aumentare un po' la soglia di tolleranza quindi con tolleranza zero lui mi prenderà soltanto i punti in inglese si dicono peach black cioè neri come la pece oppure posso aumentare la tolleranza per cercare di prendere un po' di punti in più che probabilmente sono punti che non sono stati colorati nella nuvola di punti do ok il software parte con l'elaborazione ed ecco che mi fa una selezione di punti che secondo lui rispecchiano questa questa corrispondenza con il parametro che gli ho chiesto di utilizzare come selezione guardiamo il numero di punti che ci sono qua ora la nuvola di punti da laser scanner che lui vede come numero di punti dense è formata da 2.779.222 punti ho selezionato il software selezionato per colore gli do il tasto cance lui me li toglie 1.460.775 punti quindi ci ha dato una bella sfrondata però c'è ancora qualcosa che non va ci sono ancora un po' di punti della nuvola che sono neri e nonostante abbiamo fatto una selezione sulla base del colore in realtà questi punti non sono proprio neri 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 ma sono punti che in qualche modo potremmo dire che hanno gli è arrivato un po' di schisce un po' di colore e quindi non siamo riusciti a selezionarli se volessi toglierli io ti consiglierei di passare magari a Cloud Compare che ti permette di utilizzare i campi scalari e fare una selezione sulla base dei campi scalari in una maniera molto molto più più accurata per veramente toglierli tutti quanti e rimanere soltanto con i punti della nuvola colorata però magari questo lo guardiamo in un video proprio specifico dove utilizziamo Cloud Compare e le applicazioni dei campi scalari spero che questo video ti sia stato utile c'è questa opzione ti ripeto gli scanner ormai sono integrati integrano hanno collegamenti con camere che sono montate su di loro e quindi hanno il punto di vista stesso dell'emettitore e quindi la colorazione è la migliore possibile c'è questa opzione a me non capita spesso di utilizzarla però spero che possa essere utile sapere che esiste questa possibilità se ti va di collegarti con 3dmetrica 3dmetrica.it è il mio quartier generale online altrimenti telegram telegram.me slash 3dmetrica se pensi che questi contenuti poi siano utili se pensi che possa valere la pena di supportarli puoi diventare un finanziatore di 3dmetrica 3dmetrica.it slash supporta e puoi unirti al gruppo dei finanziatori supporter produttori persone che hanno deciso di darmi il loro supporto aderendo a una campagna di crowdfunding su Patreon trovi tutti le informazioni lì è libero assolutamente questi video ci saranno sempre ed è anche grazie a loro che ci sono e ti ringrazio per averlo visto dell'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradighini